Ciao a tutti dalla Mente tra le Pagine e benvenuti in questo nuovo video in cui vi ho portato un personaggio estremamente interessante da un punto di vista psicologico, ovvero il personaggio di Danzo, uno dei personaggi forse più controversi di tutto il manga di Naruto, un personaggio che presenta numerose oscurità che è bene rischiarare con la lente della psicologia assieme a voi. Tuttavia, prima di procedere con la nostra analisi, è sempre bene fare le nostre solite due premesse. Per prima cosa è bene dire che le mie analisi sono analisi che si rivolgono ai personaggi immaginari, quali personaggi dei film, libri, fumetti, ma anche dei videogiochi. Nulla hanno a che fare, nulla devono avere a che fare con analisi psicologiche né tanto meno psicoterapeutiche che si rivolgono persone reali. Seconda cosa è bene dire che se non avete mai visto l'episodio di Naruto in cui vi è Danzo, vi consiglio di guardare prima questi episodi, prima di proseguire con l'analisi del video. Detto questo, possiamo iniziare la nostra analisi assieme. Come diciamo sempre nelle nostre analisi psicologiche, se vogliamo veramente capire la personalità di un personaggio, dobbiamo necessariamente partire dalla sua infanzia. Siccome però l'infanzia di Danzo non è rappresentata né nell'anime né nel manga, possiamo solo ipotizzare. Possiamo ipotizzare che Danzo abbia avuto una relazione estremamente difficile con il padre, una relazione estremamente manipolatoria, in cui il padre stesso di Danzo lo abbia più volte manipolato. Ciò è lui ha potuto far nascere un senso di impotenza e per una sorta di meccanismo di difesa un senso di rivalsa, in cui lui manipola le altre persone per la paura stessa di venire manipolato. Ciò, questo aspetto, è molto presente nella sua personalità e nella sua persona. Con la madre Danzo potrebbe avere anche avuto un rapporto abbastanza piacevole, potrebbe avuto avere, anche perché ricordiamolo che Danzo ha paura di persone forti, sicure di sé, che in qualche modo li ricordano la sua personalità. E quindi potrebbe agganciarsi, in maggior modo, a persone che mostrano un archetipo materno, ovvero un archetipo di accoglienza, un archetipo di protezione, un archetipo che comunque è di gentilezza. Detto questo, possiamo esaminare anche le azioni di Danzo, le azioni che ha fatto. Una delle azioni più perfide che ha fatto Danzo è stata quella di manipolare il giovane, i taci, Ucia, per farli compiere lo sterminio del suo clan, per farli compiere lo sterminio del suo clan e, in qualche modo, per riuscire comunque ad avere una sorta di controllo sul clan Ucia. Altro aspetto che possiamo evidenziare di Danzo potrebbe essere un evento post-traumatico, da stress post-traumatico. Perché? Perché Danzo è una persona che ha affrontato la guerra, una persona che è rimasto, fin da giovane età, coinvolto in dei conflitti bellici. Questo suo rimanere coinvolto fino in giovane età in dei conflitti bellici può aver fatto scaturire lui paure e insicurezze, ma soprattutto una sorta di anestesia emotiva. Cos'è che vuol dire? Vuol dire la difficoltà di provare emozioni, la difficoltà di entrare in empatia con le emozioni degli altri e soprattutto anche, molto spesso, una difficoltà nel riconoscere le emozioni nelle altre persone. L'atteggiamento di dominio e controllo è quello che è sempre presente in Danzo, un atteggiamento di dominio e controllo che derivano sicuramente dalla paura di perdere il controllo. Paura di perdere il controllo e soprattutto anche una voglia di controllare gli altri, voglia di controllare gli altri in modo che non le possano fare del male. Danzo giustifica le sue azioni, razionalizza tutte le sue azioni violente come causa di un bene superiore, ovvero come scopo, come mezzo per far sì che si compia il benessere totale del villaggio della foglia. Quando invece le sue uniche azioni, le sue azioni sono invece motivate da una sete oscura di potere e da una sete oscura di dominio. Quindi possiamo dire che Danzo, attraverso il meccanismo di difesa della sublimazione, riesce a giustificare i suoi atteggiamenti violenti. Ma spieghiamo un attimo cos'è la sublimazione. La sublimazione è un meccanismo di difesa in cui le emozioni violente vengono incanalizzate in qualcosa tra virgolette di più positivo, ovvero tutte le emozioni violente che prova Danzo può incanalizzarle nella protezione del villaggio della foglia. Tuttavia, siccome queste emozioni sono estremamente violente, saranno violente anche tutte le azioni che compierà Danzo per proteggere il villaggio della foglia. Altra cosa da notare è la comparazione fallimentare con gli altri personaggi. Danzo non crede minimamente nelle sue capacità, tanto è vero che dovrà assorbire lo Sharingan del Lucia tramite gli occhi, tanto è vero che utilizzerà tecniche di combattimento di altri ninja, perché lui ha una scarsa stima in se stesso. Scarsa stima in se stesso che denotano un complesso di inferiorità. Complesso di inferiorità in cui Danzo per l'appunto si sente inferiore, ma in cui tenta di mascherare questa sua inferiorità. Quindi lui ha un occhio coperto da delle bende, che contiene un occhio impiantato con lo Sharingan dell'Ucia, mentre sul braccio invece ha sempre altri occhi che contengono sempre lo Sharingan di questo famoso clan, questo famoso clan che lui stesso ha fatto sterminare perché riteneva in qualche modo estremamente pericoloso. Tuttavia è abbastanza, tra virgolette, ironico vedere come lui abbia sterminato ciò che poteva rivelarsi qualcosa di pericoloso per lui, ma allo stesso tempo ne invidi i poteri. Tanto è vero che si è fatto impiantare gli occhi dell'Ucia e tanto è vero che utilizzerà in battaglia prettamente, barra prevalentemente, le loro tecniche. Altra cosa da notare è la sete di potere, sete di potere di Danzo che vuole diventare a tutti i costi Okage e per diventare Okage riesce persino a manipolare la mente di personaggi influenti nel mondo della politica dei ninja. Riesce a manipolare la loro mente e riesce a condizionarli. Tuttavia Danzo viene scoperto su questo atteggiamento manipolatorio. Il suo atteggiamento manipolatorio viene scoperto e ciò in qualche modo li provoca la scomunica dal ruolo di Okage. Successivamente Danzo affronterà Sasuke Uchiha, il fratello di Tachi che con la sua sete di vendetta, che con il suo senso e la voglia di fare giustizia riuscirà ad avere la meglio su Danzo, sconfiggendolo definitivamente. Detto questo, tanto per riassumere, vediamo un attimo le caratteristiche di Danzo che abbiamo analizzato assieme. Prima cosa, possiamo dire che potrebbe avere tranquillamente un disturbo da stress post-traumatico, ovvero l'aver continuamente vissuto esperienze di guerra molto violente può aver fatto scalturire nel personaggio stesso i disturbi di questo stress, tra cui l'anestesia emotiva, la difficoltà quindi di provare emozioni, la difficoltà di entrare in empatia con le altre emozioni delle altre persone e quindi anche il suo relazionarsi difficoltoso. Seconda cosa, Danzo, possiamo presupporre che abbia avuto un padre estremamente manipolativo. Magari il padre mascherava le sue azioni sotto la voce della giustizia, ovvero le giustificava dicendo anche il padre stesso che tutte le sue azioni erano razionali e per un bene superiore. Quindi padre manipolativo di cui ha paura, possiamo ipotizzare, e siccome ha paura di venire manipolato, cos'è che fa? Manipola gli altri, lo abbiamo visto con i suoi poteri come il potere dell'occhio e lo abbiamo visto in tutte le azioni spietate che il personaggio stesso conduce. Terza cosa, carattere impositivo di Danzo, carattere positivo che possiamo immaginare Cozzi con altri personaggi che hanno un carattere impositivo, quali per esempio Naruto e anche Sasuke, ma anche con altri membri del villaggio, e che sia più aperto, e che Danzo sia una persona molto più aperta a persone che mostrino con lui atteggiamenti di accondiscendenza, di gentilezza, di protezione, carattere materno, in quanto Danzo possiamo dire tranquillamente archetipo patriarcale, positivo, giudicativo, ma è estremamente rigido, estremamente severo. Dopo, per concludere, cos'è che possiamo dire di Danzo? Possiamo dire che non crede nella sua capacità, tanto è vero che utilizza tecniche del clan Ucia, tecniche del clan Ucia, che coppia e che ha copiato tutte da quel clan, e scarsamente utilizza delle proprie tecniche personali. Questo ci fa presupporre un senso di inferiorità, una comparazione fallimentare agli altri, e un forte senso di gelosia. Per concludere, ultimo punto aggiuntivo, anche il fatto che Danzo, sottolineiamolo, volesse in qualche modo anche appropriarsi del potere di Naruto, e quindi questa sua continua sete di potere che non lo porta da nessuna parte, e che in qualche modo può mascherare una vita completamente vuota e priva di senso, una vita senza uno scopo sano e costruttivo, una vita, tra virgolette, anche molto spesso passata sotto la solitudine interiore e la tristezza. Detto questo, l'analisi di Danzo è stata un'analisi molto interessante. Io vi invito a condividere il video con quante più persone possibili interessate a questi argomenti, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, e vi invito anche a lasciare un vostro commento costruttivo, in quanto i vostri commenti costruttivi sono molto piacevoli da leggere, sia per me, sia per altri utenti che si avvicinano a queste tematiche. Bene, io vi ringrazio ancora, noi ci vediamo al prossimo video, un caro saluto dalla mente tra le pagine. Ciao e alla prossima!